Denunciata per ricettazione e sostituzione di persona una padovana 26enne dai carabinieri di Abano Terme. La donna ha usato una carta di credito all'interno di una sala slot e di alcuni centri commerciali della zona per importi mai superiori ai 25 euro, operazione che le consentiva di non digitare il codice PIN. La scheda, chiaramente, non era sua ed era stata rubata ad una cinquantenne di Abano. In totale la 26enne ha speso 200 euro.